Allora, nella memoria e nel ricordo di Rosario Corsaro, quest'anno la novità la prendiamo un po' a ridere. Avete vinto voi, non la CBS come sempre, però insomma vediamo, qui facciamo vedere anche tutte le targhe eccetera eccetera. Prendiamo pieni di trofei. E il significato di oggi nel nome dello sport è sempre di ricordare il nostro amico. Il significato è l'integrazione di questi ragazzi che merito e anche per far capire alla gente che non sono quelli che pensano. Sono ragazzi completamente integrati in questa società del 2016. Grazie a tutti. Grazie a voi, mi permettete di dire, lo dico a entrambi, ai genitori, mi permettete di dire che insomma Rosario ha aiutato anche a questo, mi permettete di dirlo. Rosario in tutto il mondo, anche con questi. Infatti Rosario amava proprio tutti e anche per questo ho avuto il piacere quest'anno di invitare questi ragazzi. Questo è stato un piacere veramente, che lo ha voluto diciamo anche Rosario. Sono felice di questo. Una bella giornata in tutti i sensi oggi. Sono felice, sì. Complimenti a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.